Alessandro Battilocchio, si apre ufficialmente la campagna elettorale, un successo? Una campagna festosa, col sorriso, in cui porteremo avanti le nostre idee, le nostre proposte e io metterò a disposizione la mia persona di questo grande progetto che vede tutto il territorio unito con grande rispetto e stima verso i miei competitors, credo che sarà veramente una bella sfida però c'è da parte del territorio, lo vedete, tanta voglia di tornare a partecipare. Un territorio che non si ferma ovviamente a Civitavecchia, comprende una serie di comuni fra cui anche la Perla del Tirreno, quindi si cercherà di puntare sul territorio, svilupparlo anche dal punto di vista turistico? Assolutamente, perché questo è un territorio che ha già fatto dei passi in avanti in termini di creare rete e creare sistema però deve fare degli step più incisivi. Io metto a disposizione di questo tipo di percorso la mia esperienza, sono stato sindaco, sono stato parlamentare quindi metto a disposizione di questo territorio la mia esperienza e il mio background politico e personale.